L'omicidio di ieri a Gambirasio si arricchisce di un ulteriore giallo, quello sulla consulenza che la procura, oltre un anno fa, commissionato agli esperti di medicina legale dell'Università di Pavia e che dovrebbe essere depositata a breve. Per il professor Fabio Buzzi, il DNA trovato nei peli sul cadavere sarebbe quello di ignoto 1, poi rivelatosi Massimo Bossetti, il muratore bergamasco in carcere. Fabio Buzzi, responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale e Scienze Forensi del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Pavia, aveva parlato ieri nel corso di una trasmissione televisiva della corrispondenza tra il DNA rintracciato nei peli ritrovati sul cadavere con quello del cosiddetto ignoto 1, ossia, secondo gli investigatori, proprio Massimo Giuseppe Bossetti, in carcere dal 16 giugno scorso e accusato dell'omicidio. Ma la notizia è stata smentita. Agli inquirenti bergamaschi, infatti, non risulta una comparazione già effettuata tra i peli e il DNA di Bossetti. Le analisi dell'Equipe di Genetica Forensi dell'Università di Pavia su altro materiale organico, come i peli e i capelli, trovato sul cadavere di Iara Gambirasio, sono ancora in corso e, conclusi gli accertamenti, verrà depositata una relazione. A spiegarlo è il professor Carlo Previdere, ricercatore responsabile del laboratorio dell'Ateneo. La moglie, marita Comi, continua a descrivere invece il marito come un uomo normale e rivela che il giorno del ritrovamento del corpo di Iara, il 26 febbraio 2011, non sapeva che Massimo Giuseppe Bossetti telefonò alla madre proprio da Chignolo d'Isola. È raccontato ai carabinieri che Bossetti la portò una volta nel campo in cui Iara fu ritrovata, ma solo tempo dopo che era stata scoperta la tragedia. Gli inquirenti stanno anche studiando un fotogramma di un furgone pick-up che potrebbe essere quello di Bossetti, immortalato proprio alle 18.12 del 26 novembre del 2010. La telecamera di sorveglianza di una banca nei pressi della palestra di Brembate, di sopra dove la gennassa si allenava, ha registrato infatti il passaggio di un furgone simile a quello del muratore, mentre percorre via Rampinelli per poi voltare a destra. Si infittiscono dunque gli indizi, pur rimanendo tali, mentre i difensori annunciano che lunedì prossimo depositeranno un'istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione del muratore di Mapello, accusato di aver ucciso Iara Gambirasio. Uno dei legali, l'avvocato Claudio Salvagni, questa mattina ha incontrato di nuovo Bossetti in carcere. L'uomo, dice, è provato da questa vicenda, ma convinto della sua innocenza.